Derby amichevoli in casa Scandone, quello andato in scena ieri sera al Pala del Mauro. I biancoverdi, guidati da coach Nino Sanfilippo, hanno vinto per 74-61 contro la Power Salerno, compagine militante nella Serie B nazionale. Avvio di match arrembante per i padroni di casa, che devono rinunciare ad Uffizia e Jaskus, fermi ai box per un affaticamento muscolare, e Musikic, che ne avrà ancora per un bel po'. Primi sprazi di gioco invece per l'ultimo innesto, Stefanini, che si è presentato al pubblico avellinese con una bella schiacciata. Nino Sanfilippo si è detto soddisfatto soprattutto del primo tempo della sua squadra, calata successivamente per via delle ridotte rotazioni, ma che ha affrontato l'ultimo quarto con grande grinta ed orgoglio. Queste invece le parole del centro Paolo Zanini al termine dello scrimmage. Sicuramente sono venuto in una piazza storica, con una passione incredibile, e si vede, si sente, nonostante fossero amichevoli, abbiamo avuto un grande pubblico sempre a cantare, a sostenerci, quindi è una cosa che carica e che dà tanta energia come l'inizio del campionato. Domani al carcere borbonico si terrà la presentazione della squadra allestita dal presidente Trasente. Si tornerà invece in campo sabato 21 settembre per l'amichevole contro Mondragone.